Allora, questo qui è Pepe, è un antianotto del BAU, Pepe ha 13 anni e oggi c'è una notizia meravigliosa, Pepe è stato adottato, adesso lo vedete che sta andando a casa, posso riprendervi? Sì, guardate vi faccio vedere il papà di Pepe e la mamma di Pepe, guardate hanno adottato questo cagnolotto, guardate che incredibili, sono arrivati e hanno chiesto il cagnolotto che aveva più bisogno di andare a casa e gli è stato indicato Pepe, guardate che bello che è, finalmente Pepe andrà a casa, amore sei contento, tu non lo sai ancora, lui non lo sa ancora ma sta andando a casa, Pepe avrà una casa e una famiglia, guardate vedete bisogna adottare i cagnolini anziani, loro sanno dare amore esattamente come tutti gli altri e hanno bisogno di una casa adottata i cagnolini anziani, e Pepe, ciao allora, buona vita Pepe, Pepe che sale in macchina, guardatelo, Pepe va a casa, eccolo sulla macchina, guardatelo un po', subito è salito immediatamente, guardatelo Pepe, eccolo guardate un po' Pepe che sta andando a casa, ha 13 anni questo cagnone, eccolo che va a casa, guardatelo, ciao, grazie a voi e vedrò, grazie, grazie, da quella parte, figuriamoci, eccolo, eccolo, ciao Pepe, arrivederci, ciao Patatone, buona vita Titone, ciao, bellissimo, guardatelo, da quando è arrivato da noi è un amore, guarda che si è coricato, come se sapesse che va a casa, ciao Pepe, ciao, adottate i cagnolini anziani, adottateli, vi danno tanto amore